Roma Fabio Capello usa mezze misure nel giudicare recente improvvisa addio alla squadra nazionale italiana Roberto Mancini, che dopo paio settimane è stato poi d'accordo con la squadra nazionale saudita, con il quale firmato un contratto multimilionario l'ex allenatore Of Rome e Milano stigmatizzano le modalità delle dimissioni dell'allenatore Mancini ha fatto grande errore le parole Capello alla Radio Troppo Sport su Radiai hanno accusato il presidente della federazione dicendo che non sentito fiducia, quando in realtà esso è sarei più facile dire guarda presidente, ho ricevuto un'offerta a cui posso dire no accetterebbe l'offerta, invece ha scalato gli specchi, accusando il presidente e la federazione di non sentire più la fiducia e di aver cambiato i miei staff. .